Copertina e la musica. Abbiamo incontrato Francis Lassus, un uomo con un'unica grande passione, la musica. Un artista di largo respiro, con una esperienza internazionale. Ha suonato con artisti straordinari come Didi Bridgewater, Stuart Copland, Gypsy Kings, La Flora del Baus, Richard Galliano e sempre con risultati eccellenti. Ma Francis è anche un artista che ama la sperimentazione. Famose le sue collaborazioni con Fabrica, Alan Goldberg, Les Arbatoires de Poe. Copertina lo ha incontrato a Milano nella sala di incisione Avatar. Avatar è orgoglioso di avere un artista come Francis Lassus, ma Avatar non è solo quattro sale prove e due studi di registrazione, è qualcosa di diverso, è qualcosa di più, vuole essere un punto di riferimento per realtà musicale milanesi. Quindi vogliamo essere un punto di riferimento polivalente e non solo una struttura fisica da poter sfruttare. C'è un libro che dico che la musica è l'organizzazione della notte. Per me è più un modo di organizzare la sua vita. Oggi c'è molto nuovi strumenti per suonare e per fare la musica. C'è molto modo di creare la musica, però la musica è mai cambiata. La musica è dentro noi, è dentro il corpo, dentro la testa, dentro il sentimento. C'è uno che mi ricordo, forse lui non è molto conosciuto, però lui è Bernard Lubat, che è un grande batterista, percussionista, pianista, fisarmonicista, che è un musicista che mi ha fatto vedere che la questione della musica non è sempre estetica. La questione della musica è di trovare la sua via, la sua maniera di andare, ma mi apre a parlare, mi apre a parlare. Adesso ho fatto un gruppo che si chiama Les Elegant Machines, che è un gruppo unicamente di batteristi. C'è otto batteristi che sono insieme e più che un gruppo è un punto di incontra per differenti batteristi di tutto il mondo. Per il giovane musicista è di lavorare molto, molto, aprire la sua orecchia, il suo cuore e dalla mattina alla serata di fare così.